hegel il venerdì santo speculativo da fede e sapere il puro concetto ossia l'infinità come abisso del nulla in cui sprofondo ogni essere deve designare il dolore infinito dolore che esisteva in precedenza storicamente come quel sentimento su cui riposa la religione cristiana nei tempi moderni il sentimento dio stesso è morto quello stesso sentimento che era stato espresso per così dire solo empiricamente nelle parole di pascal la natura è tale da indicare dovunque un dio perduto tanto nell'uomo che fuori dell'uomo puramente come momento dell'idea suprema ma anche niente più che un momento e così dare un'esistenza filosofica ciò che era per esempio o precepto morale di sacrificare l'essere empirico o il concetto dell'astrazione formale dunque alla filosofia l'idea della libertà assoluta e conciò la passione assoluta o il venerdì santo speculativo che fu già storico e ripristinare quest'ultimo in tutta la verità e durezza della sua adeità dalla quale durezza soltanto perché il carattere più gioioso più superficiale più singolare sia delle filosofie dogmatiche che delle religioni naturali non può non scomparire la suprema totalità in tutta la sua serietà e dal suo abissale fondo può e deve risuscitare in modo onnicomprensivo e per la più gioiosa libertà della sua figura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti